L'apparato consente di memorizzare quattro sensori porta finestre o volumetrici e quattro telecomandi. Andiamo a vedere come si memorizza i sensori. Prima si inserisce la batteria dentro, bisogna assicurarsi che funzioni, poi dietro lui ha un tasto Learn, questo. Si preme una volta il tasto Learn, diventa blu, si apre il sensore e lui l'ha già digerito. Eccolo qui, memorizzato. Per memorizzare il telecomando si preme due volte il tasto Learn, la lampeggia di rosso, e lo stoppiamo e memorizzato anche il telecomando. La funzione è stata inserita.